Di Luciani metterei in evidenza tre caratteristiche sacerdote che pregava, che viveva poveramente e che si sentiva bene con la gente. In relazione alla povertà, si riferiva alla povertà dei sacerdoti, mia madre soleva citare talvolta Mons. Luciani per dirmi che il sacerdote non doveva avere conti in banca o libretto di assegni. Un ricordo, quello del cardinale Beniamino Stella, che esalta le virtù di Papa Giovanni Paolo I. L'attesa beatificazione sarà celebrata in Vaticano con una cerimonia diversa rispetto alle consuete. Non sarà infatti il corpo ad essere portato a Papa Francesco, ma una reliquia. Nello specifico, uno scritto autografo, appuntato su un foglio bianco risalente al 1956. Uno schema per la riflessione spirituale sulle virtù di fede, speranza e carità. Da prete, vescovo e pontefice è stato capace di manifestare attraverso la sua vita la tenerezza di un Dio misericordioso e materno. La santità di Papa Luciani è importante per la Chiesa e per il mondo di oggi, perché attraverso il suo esempio siamo richiamati al cuore della vita cristiana, all'umiltà e alla bontà di chi sa riconoscersi peccatore e bisognoso di misericordia, di chi vuole servire con dedizione generosa e con opere di bene gli altri, annunciando la gioia del Vangelo. Un percorso, quello della beatificazione, iniziato 19 anni fa e che domenica troverà compimento. Un evento importante per tutto il territorio, che è stato la casa del Papa del Sorriso. La nostra dioce è una piccola diocesi, 180.000 abitanti, però in questi giorni vive veramente con intima gioia questo evento enorme che la riguarda.